Ah, Dave, sono così contenta che siamo qui insieme, sai, ti ho portato finalmente al grande acquario, ci sono già venuta con la mia famiglia ed è stato meraviglioso! Ah sì, Anna? Sì, guarda! C'è il grande scuole martello! Wow! Bellissimo, non l'ho mai visto così vicino! Sì, Dave, qui è tutto stupendo! Beh, ti ho portato qui anche perché ti devo dire una cosa oggi! Dimmi! Beh, dopo, dopo, adesso ti devo far vedere una cosa, guarda! Ci sono così tante cose da guardare qui che non abbiamo tempo per fare tutto, forse! Ma, Anna, dimmi! Ecco i due piccioncini! Devo avvicinarmi per pregare quegli zaini! Ma come faccio? Devo trovare un momento! Vieni, Dave, vieni! Da questa parte! Ma, Anna, mi avevi detto... Ah, vabbè! Sì, sì, arrivo! Guarda, questa è una botola particolare! Tu puoi guardare direttamente da dentro all'acquario! È fantastico! Wow, stupendo! Forse è il momento giusto questo! Speriamo che lasci in un attimo gli zaini! Mmm, ne dubito! Wow, Anna! Non voglio più uscire da qua! Voglio stare qui tutto il giorno! È meraviglioso! Ciao, ci conosciamo! Ciao! Come ci conosciamo? Scusa, io non ti conosco! Ma sì, dai, ma... Ah, no, forse ti ho confuso con una persona! Niente, niente! Ciao, ciao! Scusami, ciao! Boh, che strano modo di salutare le persone! Vabbè! Ti è piaciuto, Dave? Sì, mi è piaciuto un sacco! Ma ora non mi dovevi dire una cosa? Sì, ecco, vedi, ma... Oh, corri! Perderemo il momento in cui danno da mangiare agli animali! Corri, corri! Ma Anna... Vabbè, andiamo, sì, sì! Oh, ecco, vedi! Ha il pesce in mano! È ora da da mangiare! Fantastico! Non l'ho mai visto da così vicino! No, mannaggia, qua non va bene! C'è troppa gente! Se rubassi uno zaino urlerebbero tutti! E in un battibaleno sarei visto! Anna, ma... Non... No, Dave! Guarda, allora, adesso danno anche da mangiare al fantastico scuolo martello! Sono sicura che non hai mai visto una cosa del genere! Gentili spettatori, grazie per essere venuti! La nostra giornata finisce qui! Ora potete uscire! Grazie, alla prossima! Oh, è finito! Sì, Dave, è finito! Beh, oggi è stata una giornata magnifica, molto romantica, insieme ci siamo tanto divertiti! Sì, è vero, mi è piaciuta un sacco! E... Ecco, forse è arrivato il momento di dirti quella cosa che ti volevo dire da tutto il giorno! Dimmi! Lascia lo zaino! Vedi, Dave, io... Io... Oh, sì! Momento perfetto! Adesso mi avvicino di soppiato! Shhh! Io volevo dirti che... Ci conosciamo già da un mese! Sì? E da quando sei arrivato è primavera, per me! È stato tutto bellissimo! Dalla prima pausa, insieme! Ah, tutte le giornate di compiti, insieme! È vero, Anna, anche per me è lo stesso! E quindi ti volevo dire che... Insomma, io, Dave... Sai, io... Insomma... Io... Ah! Dave! Ti hanno romato lo zaino! Cosa? Ehi, tu, fermati! Fermati! Hai lo zaino del mio amico! Fermati, monellaccio! Cosa volevi fare, eh? Prendi questo e anche questo! Oh! Oh, no! Mi volevano rubare lo zaino! Non ci posso credere! Sei stata super coraggiosa! Ah! No, scusate! Mi sono confuso! Pensavo fosse il mio! Scusate! La gambe levate! Via! Dave, ecco! Io ti volevo dire che... Beh, mi sono innamorata di te! Oh, Anna, beh... Anche io ti devo dire una cosa, in realtà... Dimmi! Beh, anche io mi sono innamorato di te! Oh, Dave! ve! SAFE! Ah!